Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, a che cosa mi può servire una smartphone e un adattatore HDMI, micro HDMI, una scheda di acquisizione video USB e una Sony A7 III? Beh, innanzitutto voglio ringraziare il mio amico Luigi De Luca per avermi risolto un problema e quello che staremo per fare lo scopriamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, stavo registrando un po' di giorni fa un video con un mio caro amico Luigi De Luca, un fotografo e mi ha risolto un problema. Il problema era quello di usare un monitor esterno sulla mia fotocamera, la Sony A7 III questo sia per fare vlog ma anche quando lo monto sul gimbal per fare delle riprese un po' più particolari e non sempre posso aprire lo schermo tiltabile perché poi mi può creare problemi e onestamente non mi andava ad investire un grosso budget per un monitor esterno, almeno per ora poi più là sicuramente prenderò monitor esterni un po' più avanzati ma andiamo a vedere come ha risolto il problema. Beh, innanzitutto questo si può risolvere facilmente con uno smartphone Android. Io avevo il mio vecchio Xiaomi Mi A1 l'uso praticamente sempre come secondo telefono e basta semplicemente installare un software il software in questione è questo qua, FPUView. Ok? Questo software mi permette di praticamente trasformare il monitor del mio smartphone in un monitor esterno per fotocamera o quantomeno come modulo esterno per qualsiasi ingresso HDMI. Per fare questa operazione però abbiamo bisogno anche di un adattatore, quindi una scheda di acquisizione HDMI in questo caso l'uscita era USB, ho praticamente utilizzato l'adattatore a micro, cioè USB di tipo C che era praticamente in dotazione con questa scheda di acquisizione. Quindi andiamo ad eseguire l'operazione io il programmino già l'ho installato e adesso vi faccio vedere anche come si fa. Ok? Apriamo il nostro Play Store su Android, andiamo a scrivere FPU ed ecco qui il programmino di cui abbiamo bisogno. Vi lascerò il link agli adattatori che ho usato in descrizione e continuiamo a montare il nostro setup. Praticamente inserito il cavetto utilizziamo questo adattatore per montare il telefono, lo smartphone sulla nostra fotocamera. Andiamo a montare il nostro adattatore al telefono, andiamo a collegare alla porta micro USB della nostra fotocamera e adesso vi faccio vedere come si vlogga. Ho praticamente montato il nostro setup come potete vedere abbiamo montato il nostro telefono come monitor esterno della fotocamera e quindi adesso vi saluterò con le riprese della A7 III. Ok? Allora ragazzi come potete vedere sono passato a utilizzare la ripresa della Sony A7 III o immagino che abbiate notato la differenza. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e con me ci vediamo al prossimo video. See you next! Ciao! 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 You're gonna be born for more